Una volta abbiamo fatto una figura, ma questa seconda almeno... ecco. Maurizio è senza fricunito, adesso è colpa vostra se non l'abbiamo. Sto già pronto? Se mi offri il gelato prima della sangria me ne fanno indignato. Non so che vuol dire che è già tornato a fare... No, è stato fatto il giorno dopo, perché a me forse ci siamo visti, non mi ricordo, questo pantalofono che ci siamo visti, no? Ha detto, di amore, Roberta, com'era la sangria? Che era un po' buono! Eh, ma proprio sai che almeno la vediamo, perché sennò... Roberta, hai dovuto? Questa qua? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.